Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. In questi giorni, il panorama televisivo italiano si è trovato ad affrontare una perdita profondamente sentita. Una stella che per anni ha brillato nel firmamento della nostra televisione, ha concluso il suo viaggio terreno. La sua carriera, intrisa di passione e innovazione, ha lasciato un segno indelebile in molti di noi. Non è stata solo un volto noto sul piccolo schermo, è stata una vera ispirazione, una guida per chiunque guardasse i suoi programmi con ammirazione e affetto. Ivana Ramella è originaria di Biella, una città che ha custodito i suoi primi passi e che ora la saluta all'età di 81 anni. Assieme al marito Peppo Sacchi, una figura chiave della RAI, Ivana ha saputo rompere gli schemi, portando alla luce telebiella nel lontano 1971. Questa emittente, nata dalla loro visione condivisa, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, un primo, coraggioso passo verso la rottura del monopolio televisivo dell'epoca. Tra le mura di Telebiella, è inoltre germogliato il talento di Ezio Greggio, che sotto la sua ala ha fatto i primi passi verso quella che sarebbe diventata una carriera televisiva di enorme successo. E mentre ci apprestiamo a renderle omaggio, ricordiamo che i funerali di Ivana Ramella si svolgeranno nella quiete della cattedrale di Biella, sabato alle 10.